Con le tue mani puoi arrivare lontano e raggiungere chi soffre la fame o portare istruzione. Con le tue mani puoi costruire e proteggere il loro futuro. Con le tue mani puoi partecipare e sostenere progetti. Con le tue mani puoi salvare una vita o accompagnarne la crescita. Con le tue mani puoi costruire speranza.